Fabrizio, un momento particolarmente felice per la lanterna Taekwondo, siete reduci da una trasferta molto positiva, Bustarsizio, Rissubriacab e Viassorriso. È andata molto bene, abbiamo ottenuto due ore e tre argenti con dieci atleti presenti, consideriamo che la gara aveva 1150 atleti da tutta Italia, anche da Grecia e altri paesi europei, quindi un risultato ottimo. Un risultato che premia quelli che sono gli sforzi compiuti in particolar modo dalla ripartenza dell'attività, da settembre in avanti? Stiamo crescendo nei numeri e nella qualità, abbiamo inserito il mese scorso anche il preparatore atletico e i risultati cominciano a vedersi. Tra poco, tra meno di tre settimane ci sarà un appuntamento molto importante, il trofeo lanterna che organizzerete ancora una volta con una partecipazione massiccia. Dacci un po' di coordinate e un po' di numeri. La gara si svolgerà al Palacus in Albaro a Genova, l'anno scorso avevamo 400 atleti presenti, quest'anno saranno 500 su 7 aree di combattimento. È un evento in costante crescita e siamo molto felici di poterlo organizzare noi. Un evento che ogni anno veramente registra sempre più l'apprezzamento di tante società? Direi di sì, considerando anche l'evento di questo weekend a Bustarsizio e in Subriacab, avere 40 rotte società presenti è un orgoglio per noi. Ciò significa anche in fase di organizzazione un impegno molto importante dal punto di vista dell'allestimento, dei tatami, molto altro ancora. Sì, per fortuna quest'anno ho maggiore partecipazione anche da parte dei genitori, di tutto lo staff, di conseguenza con le persone che mi daranno una mano sarà più semplice. Non c'è tempo per riposarsi perché la settimana dopo di fatto si vola a Olbi. Ci saranno i campionati italiani, cadetti e junior. Quest'anno riusciremo a avere sei ragazzi che parteciperanno a questo grande evento. E il fatto che ieri i ragazzi abbiano ottenuto dei risultati importanti all'insopriacaba contro tutti gli avversari degli italiani ci fa ben sperare per un buon risultato. Ricordiamo il cuore della preparazione della lanterna del condone nella palestra di Pocadashi. Siamo sotto la chiesa, abbiamo un open space di 200 metri quadri dotati di tatami e questo ci permette di lavorare al meglio.